E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ancora Gomez che va a ricevere questo pallone. Gomez c'è lì vicino Cristante, il pallone per lui. Arriva Castagne col destro al centro! Ancora per Gosens! E il gol dell'Atalanta è 2-1. Si riporta avanti la squadra di Gasperini. La chiusa Gosens che trova così il primo gol in questo campionato. 2-1 Atalanta che torna avanti. Altra splendida azione della squadra nera-azzurra. Altra giocata davvero molto interessante di Barrow che va a pescare Gomez tra le linee. Poi si sviluppa l'azione anche in maniera un po' fortunosa.